Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi finalmente riprendiamo la nostra serie Imperatores, o meglio se vogliamo dirla un po' più precisamente la iniziamo, perché come avrete notato le puntate fino ad adesso sono state semplicemente puntate introduttive, un po' una scusa per raccontare un periodo, l'ultimo periodo delle guerre civili romane che porta alla nascita dell'impero, un po' una vera e propria introduzione a questa serie. Dico un'introduzione perché quelle puntate sono state in effetti molto specifiche, abbiamo raccontato veramente un po' episodio per episodio come il giovane Ottaviano sia riuscito ad arrivare a scontrarsi, a sconfiggere Marco Antonio, divenendo l'unico padrone di Roma e di come abbia tutti gli effetti iniziato la storia dell'impero. Ma da questa puntata invece Imperatores cambia registro e diventa quella che voleva essere la serie, cioè non una serie che approfondisca in maniera specifica tutti i singoli avvenimenti della storia romana, anche perché non finirebbe mai, ma invece una serie che vuole dedicare una pillola, massimo massimo due pillole, a tutti gli imperatori per riuscire a raccontarne la loro storia in maniera semplice e soprattutto cercando di raccontare in che modo cambiarono la loro epoca, ma soprattutto quale fu la loro vita, come arrivarono a diventare imperatori e una volta tali come si comportarono dai più grandi ai più piccoli e sconosciuti, che forse sono anche quelli un po' più interessanti da andare a scovare. Dato che però, parlandone con Giulio, ci siamo resi conto che sarebbe stata forse una serie che avrebbe meritato molto più spazio, abbiamo deciso, grazie alla sua disponibilità, di trasformarla in una serie duplice. Quindi avremo le pillole di storia materialmente, che racconteranno di per sé la storia dell'imperatore, cercando di sintetizzare molto, e poi invece si andrà ad affiancare a queste pillole un podcast che verrà messo su da Giulio, con ogni tanto qualche mio aiuto, ma sarà assolutamente un lavoro suo, in cui invece andrà ad approfondire singoli aspetti legati proprio ai vari imperatori. Aspetti militari, aspetti civili, tutte cose che ovviamente in una pillola non ci stanno, ma che sono molto più interessanti, molto più interessanti soprattutto se raccontate da Giulio, che ha sicuramente una conoscenza molto più specifica, come avrete visto nelle storie che abbiamo raccontato fino adesso, rispetto a me, proprio del mondo romano, che quindi mi sembra la persona perfetta per andare ad approfondire questi aspetti. Dato che però questa è la pillola, questa è Imperatores, partiamo a raccontare, sintetizzata in un'unica puntata, la storia del primo degli imperatori, cioè Augusto. Ora, come Augusto sia diventato imperatore, a tutti gli effetti, padrone di Roma, non usiamo questo termine imperatore che è brutto, padrone di Roma mi sembra un termine forse più specifico e tra poco vi spiegheremo perché, vi spiegherò perché l'abbiamo già raccontato di come sia stato adottato da Cesare, di come abbia progressivamente scalato le posizioni fino a diventare uno dei due uomini forti, prima il triunvirato, poi a tutti gli effetti una lotta tra due uomini, lui e Marco Antonio, e di come poi nella battaglia di Azio si è riuscito a sconfiggere Marco Antonio, conquistare Alessandria d'Egitto e quindi a rimanere appunto l'unico padrone di Roma. A differenza però del padre adottivo Cesare, che forse anche data l'età aveva accelerato i tempi della transizione tra la Repubblica e la sua vera e propria presa di potere, Augusto farà una cosa molto intelligente che gli permetterà, sempre a differenza di Cesare, di trasformare questo suo dominio da un qualcosa di temporaneo, effimero, nato dalla vittoria, in un qualcosa di definitivo. Si può dire che Augusto ebbe una grande pazienza, ebbe tempo, ebbe pazienza, ebbe cura e seppe preparare da una parte lo Stato romano a letteralmente votarsi a questo nuovo sistema politico che vedeva un uomo in cima a tutto, quello che noi chiamiamo imperatore, ma che all'epoca era appunto Augusto, il princeps. Dall'altra parte preparare lo Stato romano, che era uscito dalle guerre civili, ma anche prima da una serie di veloci, lunghe, sanguinose guerre di espansione che l'avevano portato a coprire quasi tutto il Mediterraneo, prepararlo a entrare appieno nell'epoca dell'impero. Perché quando Augusto divenne padrone di Roma, appunto, l'impero che stava nascendo era ancora molto diverso da quello che siamo abituati a conoscere nell'epoca classica. Era ancora un territorio diviso, che aveva grossi problemi dal punto di vista economico. La stessa città di Roma, pur avendo a suo interno già molti monumenti, era ancora molto diversa, diciamo molto più arretrata rispetto a quella che siamo abituati ad associare al periodo dell'impero. A tutto questo Augusto pose rimedio, ed è quello che cercheremo di raccontare oggi. Il periodo di Augusto, inoltre, passerà alla storia, viene raccontato normalmente nei libri di storia come la cosiddetta Pax Augustea, un periodo che pone fine alle guerre civili, appunto, ripristinando la pace nell'impero. Ebbene, non è proprio così. Non è proprio così. In realtà, Augusto intraprese un altissimo numero di campagne militari, perché si era reso conto che, se voleva la stabilità del nuovo impero, aveva bisogno di stabilizzarne i confini, porre fine a tutte quelle zone interne che non erano ancora state conquistate, tra poco vedremo, ma soprattutto creare dei confini maggiormente e più facilmente difendibili di quelli che la Repubblica gli aveva lasciato. Il nostro racconto cercherà di svilupparsi lungo queste due direttrici e alla fine di parlare della complessa e complicata situazione dinastica con cui Augusto cercherà di trovare un suo successore. Qualcuno disse che Augusto aveva trovato Roma di legno e l'avrebbe lasciata di marmo. E tutto questo è verissimo, è assolutamente vero, perché uno dei primi impegni di Augusto fu quello di cercare di rendersi sempre più amico il popolo stesso, il popolo romano. Certo, secondo i suoi biografi, diede il via a una gigantesca serie di rinnovamenti strutturali e architetturali che poi culminano nel grande foro di Augusto vicino a quello di Cesare, che a Roma, che dovevano servire a trasformare Roma veramente nella capitale del Mediterraneo. Ma è probabile che certo ci fosse un intento urbanistico, ma ci fosse anche l'intento di avvicinare a sé sia la plebe, sia quel rango senatoriale che da tutti questi lavori non potevano che trarne prestigio, ma in un certo senso molto probabilmente anche denaro. Non fu solo Roma però che venne investita da questo flusso di costruzione di denaro, ma lo fu in realtà quasi tutto l'impero, a cominciare dall'Italia, perché Augusto diede moltissima importanza all'Italia, che dopo tutto, se ci pensate, come vi ho raccontato, era un po' il centro del suo vero potere, in contraposizione all'Oriente, che era stato invece il centro di Marco Antonio, e che venne investita da una serie di lavori che andarono a rinnovare ed espandere sia la fitta rete di strade che tutte le varie città che proprio da Roma si dipanavano per tutta la penisola. Questa riorganizzazione interna all'Italia in realtà si tramutò in una vera e propria riorganizzazione che progressivamente Augusto fece di tutta la vita politica ed economica dell'intero impero, della repubblica che stava lasciando il posto all'impero. Uno dei primi oggetti della sua riorganizzazione fu il sistema delle province. Voi lo sapete, l'impero, la repubblica, era divisa in province, a capo delle quali province venivano poi destinati dai membri del senato, ex consoli, ex pretori e così via. Ad esempio, se vi ricordate, nel periodo della guerra civile, vi avevo raccontato di come, al momento della morte di Cesare, Marco Antonio e i cesaricidi si erano letteralmente spartiti il controllo delle varie province, cercando in questo modo di ottenere non solo il controllo delle province, ma anche e soprattutto il controllo delle truppe che a quelle province erano legate. Augusto decide quindi di riformare completamente questo sistema provinciale e crea delle province su due livelli, quasi tre, ma insomma mettiamo due livelli così rendiamo la cosa più facile. Come vedete dalla cartina qui a fianco, infatti, Augusto crea questi due tipi di province. Le province, diciamo interne, quelle pacificate, quelle che avevano meno necessità di una presenza militare, saranno delle province che vengono affidate al senato, in cui sarà il senato a scegliere chi saranno i governatori, coloro che controlleranno la provincia. Le province invece più esterne, quelle colorate un pochettino più chiare, quelle che non erano date per pacificate, in cui ci doveva essere una presenza militare, saranno invece delle province imperiali, in cui il controllore della provincia, colui che controlla la provincia in sé, diciamo il governatore, sarà invece deciso dall'imperatore stesso. Perché questo? Che se uno ci pensa potrebbe dire, ma come l'imperatore si prende le province in cui sono più problematiche? E no, perché ovviamente essendo le province più problematiche erano anche quelle in cui al cui interno si trovavano le truppe, che come avevano dimostrato le guerre civili da Mario in poi, erano quelle che facevano e disfacevano i governi a Roma. E quindi l'imperatore controllando le truppe, che peraltro subirono anch'esse un grosso rinnovamento, tra poco ne parleremo, riusciva a tutti gli effetti a controllare il potere a Roma. Un'eccezione a tutto questo sistema, o meglio se vogliamo la prima provincia imperiale, fu l'Egitto, che da quando Ottaviano l'aveva strappato alla Cleopatra, all'ultima dei Tolomei, era diventato a tutti gli effetti una provincia da lui quasi direttamente controllata, tramite un proprio prefetto, che originava dalla classe sociale dei cavalieri, che era una delle più legate ad Augusto, e che aveva trasformato quello che era a tutti gli effetti uno dei luoghi, dei punti più ricchi dell'intero Mediterraneo, perché l'Egitto rimaneva uno dei posti più ricchi dell'intero Mediterraneo in una delle province più fedeli proprio ad Augusto, cosa che gli dava potere, ma soprattutto gli dava ricchezza, cosa che come abbiamo visto nel periodo delle guerre civili era molto importante per mantenerlo, quel potere che aveva acquisito. Come dicevo, però, anche l'esercito subì una trasformazione, un rinnovamento, perché trasformò, completò a tutti gli effetti quell'evoluzione dell'esercito da un esercito di popolo, in un esercito professionale, creando a tutti gli effetti le vere e proprie legioni professionali, in cui addirittura anche i comandanti, i generali, i comandanti su vari livelli, non erano più appuntati per una serie di campagne, magari provenienti dalla politica, ma erano molto spesso dei generali di professione, migliorando in questo modo da una parte la professionalità e la capacità militare, dall'altra parte legando maggiormente il generale e i suoi uomini a chi li pagava, cioè all'imperatore. Ovviamente questo in futuro diventerà motivo di discordia, perché quelle truppe inizieranno a essere sempre più legate al generale piuttosto che allo Stato, con i risultati che tutti sappiamo poi delle guerre civili che travaglieranno per intero l'impero. Inoltre, come tra poco vi racconterò, Augusto intraprenderà una serie di campagne con lo scopo di ridurre i confini dell'impero, di modo da poter posizionare il grosso di quelle truppe, il grosso di quelle legioni, proprio ai confini dell'impero, lungo dei limes più facilmente difendibili, che da una parte rendessero più facile della difesa dell'impero, dall'altra riducessero anche il costo della difesa dell'impero, che rischiava di assorbire troppe risorse dall'erario dello Stato. L'altra grande riforma in questo senso fu quella economica. Ora, di questo devo ringraziare Giulio perché me l'ha spiegata e in effetti non era molto chiaro dal mio punto di vista, finché lui non me l'ha spiegata. Cerco di raccontarvela a mia volta. Allora, nell'epoca delle guerre civili la situazione economica, intesa come la situazione monetaria, cioè quella delle monete all'interno della Repubblica, era diventata molto complicata perché ogni generale, ogni usurpatore, Marco Antonio, Ottaviano, Lepido, chiunque altro, letteralmente batteva moneta, cioè cognava delle monete. Queste monete, che sulla carta avrebbero dovuto avere più o meno lo stesso valore, in realtà non avevano lo stesso valore, perché pur essendo fatto dello stesso materiale, oro, argento, rame, erano talvolta, avevano delle gradazioni, quantità diverse di quel materiale al suo interno. Poteva essere, che ne so, oro al 90% piuttosto che al 98%. Ovviamente questo rendeva quelle monete con un valore più o meno alto, rendendo molto complicati gli scambi, tanto più che poi si andavano ad aggiungere tutte le vecchie monete di tutti i territori che Roma aveva occupato. Augusto, sfruttando anche il tanto denaro che aveva incamerato nelle sue campagne, organizzò una invece gigantesca rivoluzione monetaria, che si articolò su due livelli. Il primo livello fu quello di creare un nuovo sistema di divisione della moneta, che vedete qua a fianco, che si andò a dividere su otto monete diverse, due di oro, due di argento, due di oricalco, che è una lega simile all'ottone, e due di rame, il cui valore era precisamente indicato, come vedete dallo schema, di modo che fossero multipli l'uno dell'altro. In questo modo si andavano a creare delle monete con degli scopi diversi. Ad esempio, normalmente in tutti i giorni il popolo romano utilizzava le monete di rame, i famosi assi ad esempio, che erano quelli utilizzati per comprare normalmente. Quando invece si voleva pagare un legionario, dare la paga, si usavano le monete d'argento, che potete vedere. Anche in questo caso si fu un grosso lavoro per migliorare la qualità di quell'argento, che era una delle più scadenti nelle altre, nelle monete appunto dell'epoca delle guerre civili. E poi ci sono le monete d'oro, gli aurei, che invece hanno un grossissimo valore e venivano utilizzati normalmente per spostare ricchezze da una parte all'altra. Per poter controllare questa situazione fu necessario da una parte ritirare un gran numero di monete di scarso valore. Ad esempio monete d'oro che avevano una quantità di oro molto scarsa. Augusto fa battere monete col 97-98% d'oro, praticamente oro puro. Dovette ritirare monete che avevano magari solo l'80% d'oro, 70% d'oro, cioè erano monete veramente di scarso valore rispetto a queste. Inoltre fu necessario ovviamente controllare chi quelle monete le battesse. Quindi cosa fece? Fece chiudere la gran parte delle zecche, che alcune le hanno state create all'interno della Repubblica, altre la Repubblica le aveva letteralmente ereditate dai regni precedenti, e le limita a un numero bassissimo. Alcune, una principalmente a Roma, in controllo del Senato, che però poteva battere solo moneta di rame e di oricalco, e un'altra, situata a lubdum, di controllo invece imperiale, che batterà le monete d'oro e d'argento. In questo modo Augusto si assicura il controllo della moneta, il controllo del denaro e quindi a tutti gli effetti il controllo della vita economica della Repubblica. In mezzo a tutte queste riforme però la domanda è come aveva fatto Augusto ad acquisire tutto questo potere? Beh, come vi dicevo prima, l'aveva acquisito progressivamente, riuscendo pian pianino ad erodere potere alla Repubblica, ad erodere potere al Senato. Ora qualcuno potrebbe pensare, ma il popolo di Roma come accettava questa perdita di potere? Il popolo ovviamente si intendono i ricchi perché i popolani avevano comunque pochissimo potere, ma come potevano accettare una così importante perdita del proprio potere? Beh, l'accettarono perché era Augusto, perché aveva un'autorità enorme, perché aveva un potere enorme, controllava l'esercito, aveva dimostrato di essere in grado di sconfiggere tutti i suoi avversari. Insomma, la Repubblica progressivamente, applaudendo Ottaviano, che sarà nominato Augusto, aveva negli applausi, così facciamo una citazione, ceduto progressivamente il suo potere e la sua libertà. Ottaviano nel 27 a.C. diventa Augusto, proprio ad opera del Senato, il quale lo nomina Augusto, che ha una duplice origine. Dal verbo augere, che vuol dire aumentare, perché appunto i suoi poteri erano aumentati, ma soprattutto la sua autorità nei confronti della Repubblica era aumentata, e dall'altra parte da un antico termine, dall'augurium, che si riferiva verso Romolo. Qualcuno, qualche autore dice addirittura che il Senato avrebbe voluto nominare Augusto come nuovo Romolo, ma questa cosa venne rifiutata e si decise appunto per questa via di mezzo, che comunque gli dava molto potere. Augusto era però solamente un titolo. Il potere, invece, di Ottaviano si esplicitava attraverso, diciamo, due poteri paralleli. Il primo fu il cosiddetto Imperio Proconsulare, cioè il potere che gli venne attribuito di poter avere un controllo, proprio come un proconsule, cioè un ex console, sulle province, inizialmente solo quelli imperiali. A tutti gli effetti Augusto console continuò a esserlo dal 31 avanti Cristo fino al 23 avanti Cristo, per otto anni, una cosa che teoricamente non era permessa, per poi rinunciare a questa carica che venne affibbiata ad altri, ma ricevendone in cambio un accrescimento proprio di quel potere, perché da un potere proconsulare divenne maius, cioè maggiore, cosa che gli dava potere non solo sulle province imperiali, ma anche su quelle senatoriali, e poi divenne illimitato e senza alcun limite di tempo. Questo potere, che a tutti gli effetti gli dava il controllo su tutte le province, le truppe, quant'altro, rimanendo al di sopra di tutte le cariche politiche collegiali, quindi vari i consoli, gli edili, questore e così via, gli era il nucleo del potere di Augusto. A questo però si associava un altro potere, questo diciamo era un potere di derivazione direttamente senatoriale. Esisteva però un altro potere, gli venne infatti affibbiata la cosiddetta tribunicia potestas, cioè il potere che era stato dei tribuni del popolo, ed erano due. Il primo era l'inviolabilità della sua persona, in che si tramutava anche nella possibilità di mettere a morte chi attentava alla sua persona, cosa che poteva essere interpretata anche in maniera un po' ampia come attentato, ma soprattutto la possibilità di avere diritto di veto nei confronti del Senato. Quindi abbiamo un uomo che ha nel contempo il titolo di primo senatore, primo cittadino, ha il potere su tutte le province al di sopra delle cariche del Senato, e qualora anche il Senato dovesse decidere un qualcosa che non gli piace, ha la possibilità di veto, e nessuno può inquisirlo per queste cose, perché ha l'immunità. Insomma, in una decina d'anni, Augusto aveva letteralmente creato, basandosi su dei titoli repubblicani, la base dell'impero che andava a nascere. Tutta questa evoluzione politica, come vi ho raccontato all'inizio, si associa ad una forte componente militare. A differenza di quello che piace raccontare, cioè che il periodo di Augusto fosse appunto un periodo di pace, la Pax Augustea, in realtà fu un periodo di grandi guerre. Guerre da cui molto spesso Augusto non si tende lontano, nonostante come avesse raccontato non aveva grandissimi doti militari, ma cui molto spesso egli stesso partecipò talvolta a distanza, lasciando che a comandare i suoi eserciti fossero il fedele Agrippa, almeno nella prima parte, prima della sua morte, e poi i suoi figli adottivi. In particolare Tiberio, che ricordate era il primo figlio di Lidia, cioè la moglie di Augusto, e Druso, che era il secondo figlio, quello nato addirittura dopo il matrimonio tra Augusto e Lidia. Le campagne di Augusto ebbero un obiettivo principale, cioè quello di stabilizzare i confini dell'impero. Questa stabilità passava inizialmente dall'attacco a popolazioni che, pur trovandosi all'interno dell'impero, ancora non erano soggette al loro comando. La prima ad essere, prima ad essere investiti, furono le popolazioni del nord della Spagna, le vedete nella mappa qui a fianco, nelle cosiddette guerre cantambriche, che vennero combattute tra il 27 e il 26 avanti Cristo. Furono delle guerre che colpirono i popoli dei cantambri e degli asturi, da cui il termine peraltro asturia che adesso indica quella zona, i quali erano riusciti a sfuggire al controllo romano grazie alla presenza di alte montagne e rilievi che rendevano difficile la conquista di quelle zone, e che da lì si spingevano molto spesso in razzie verso l'Iberia romana. Augusto non riuscì a sottometterli in due anni di campagna, e peraltro investendo molte risorse militari, riuscì a porre fine alla loro autonomia, pur dovendo sopportare, a quanto pare, nel 20 avanti Cristo una nuova rivolta che vende in questo caso sedata da Agrippa. Il secondo obiettivo furono invece le popolazioni dell'arco alpino, dalla Rezia e di tutto l'arco alpino, cioè popolazioni che controllavano quei passi di montagna che facevano, permettevano il passaggio dall'Italia verso la Germania, verso Oriente o verso la Francia. Contro di loro per la prima volta Augusto usò il metodo del bastone della carota. A coloro che infatti accettarono il controllo di Roma si propose amicizia, propose alleanza, gli altri invece semplicemente gli schiacciò. A schiacciarli con una tattica atenaglia, letteralmente perché una parte delle legioni partirono da una parte dell'arco alpino, le altre dall'altra, e si vennero incontro, furono proprio due figli astri di Cesare, figli adottivi di Cesare, cioè Tiberio e Druso, che condussero insieme questa battaglia occupando l'arco alpino. Peraltro c'è un bellissimo monumento che non è più integro ovviamente, ma che rimane di sicuro effetto, che è il Trofeo delle Alpi che vedete qui a fianco, se passate per il sud della Francia andatelo a vedere, perché è veramente bellissimo, io l'ho visto, me lo ricordo veramente molto molto bello. Queste furono però diciamo un pochettino le prime campagne. Quando si iniziò a far sul serio gli obiettivi, almeno in Europa, furono due, e furono innanzitutto la Dalmazia e poi la Germania. Erano due territori che erano importanti per il discorso che facevo prima di creare dei confini più facilmente difendibili. Da una parte la Dalmazia, se occupata, avrebbe potuto permettere all'impero di spingersi fino al Danubio, dall'altra l'idea era di passare da un confine sul Reno a uno sull'Elba, riducendo così lo spazio da difendere e inglobando nuovi territori all'interno dell'impero. Le campagne dalmate vennero inizialmente condotte da Agrippa, ma erano in seguito di una lunga serie di campagne che, se vi ricordate, aveva già iniziato lo stesso Augusto, quando non era ancora Augusto, era solo Caio Giulio Cesare e aveva condotto le sue truppe proprio alla conquista della Dalmazia. Negli anni successivi però una serie di campagne erano già iniziate, anche perché i popoli illiri, dalmate in testa, avevano più volte attaccato sia le province illiriche dell'impero, che da sud invece le province macedoni. Il primo a organizzare una campagna proprio contro gli illiri fu il fidato Agrippa, il quale per tre anni condusse una serie di campagne che permisero di riconquistare gran parte dei territori dalmati che erano stati strappati durante la guerra civile. A portare però a compimento la sua opera dopo la morte di Agrippa sarà proprio Tiberio, il quale, preso il comando delle operazioni, organizzerà anche in questo caso una manovra Tenaglia, partendo dalla Macedonia e dall'Illiria, sconfiggerà una dopo l'altra tutte le popolazioni, sottomettendole e spingendosi fino al fiume Sava, creando così un nuovo confine verso oriente in direzione del Danubio. In realtà queste popolazioni non saranno ancora pacificate per molto tempo, tanto che dal 6 al 9 d.C., quindi ancora durante il regno di Augusto, ci sarà una nuova grande rivolta che verrà sedata letteralmente nel sangue. Quella che però è probabilmente la campagna più famosa dell'epoca augustea era quella contro i Germani. Lo sapete, la Germania sfuggirà per gran parte dell'impero al controllo degli imperatori stessi, ma in realtà faceva parte di questo grande disegno di Augusto. Per riuscire a pacificarla, Augusto organizzerà una serie di campagne. Il primo a condurle sarà il fratello di Tiberio, cioè Druso Maggiore, il quale dopo la guerra nell'Alco Alpino verrà inviato da Augusto con alcune legioni proprio in Germania. In quattro anni di guerra Druso riuscirà a vincere letteralmente i Germani, si spingerà fino all'Elba, costruirà una serie di fortini, inizierà a sottomettere una dopo l'altra tutte le tribù legandole a sé per obbedienza e per motivi economici. Questo permetterà di iniziare ad espandere il controllo di Roma sulla zona e creare un nuovo lime, un nuovo confine proprio verso l'Elba. Druso però morirà, secondo la leggenda gli verrà annunciato proprio da un Germano che gli dirà che doveva allontanarsi dalla Germania o sarebbe morto, ma mentre tornava proprio verso l'impero verrà ferita una coscia che si infetterà e morirà. Tiberio, che sempre secondo quanto viene raccontato aveva fatto addirittura a cavallo 200 chilometri tra il giorno e la notte proprio per riuscire a incontrare ancora il fratello prima che morisse, e ci riuscì perché arrivò poco prima che Druso ospirasse, ne rilevò il potere e con una grande campagna condotta tra il 12 e il 9 avanti Cristo riuscì a proseguire e completare l'opera del fratello, sconfiggendo le ultime tribù e sottomettendo gran parte della Germania occidentale al volere di Roma. Come tutti sapete però questo controllo durò relativamente poco. Il grande colpevole di quello che successe fu Quintio Varo, che è inviato a controllare la Germania contro le Gioni, sarà sconfitto da Arminio, se volete un approfondimento in descrizione vi metto la pillola che racconta proprio questo episodio, costringendo così Roma a perdere il controllo. In realtà Tiberio condurrà pochi anni dopo una nuova campagna con cui respingerà nuovamente Germania di là del Reno e risottometterà una parte dei territori perduti, ci saranno altre campagne proprio sotto il periodo, sotto il regno di Tiberio, ma quei territori non verranno più riacquisiti. Ora voi vi starete chiedendo ma in tutte queste campagne in Europa l'Oriente? Perché vi ricordate abbiamo parlato che all'epoca di Cesare c'era stata la battaglia di Carre con cui Crasso era stato sconfitto e l'invasione da parte dei parti, poi c'erano state le campagne di Marco Antonio che aveva cercato di sottomettere la partia e Augusto? Beh Augusto probabilmente era maggiormente concentrato in Europa e per questo aveva cercato di mantenere delle buone relazioni diplomatiche con i parti. In realtà il grosso problema, il grosso vulnus dei rapporti fra le due nazioni era il regno di Armenia che entrambi vedevano come un proprio stato satellite e che per quasi tutto il periodo di Augusto sarà invece uno stato satellite romano. Ci furono in effetti due crisi, la prima venne semplicemente risolta grazie all'arrivo di Tiberio che venne inviato appena ventunenne insieme alle legioni d'Augusto e che convince senza neanche combattere i parti a trattare con la restituzione dell'Armenia e la restituzione peraltro delle insegne che erano state strappate a Crasso e di quelli ancora vivi tra i prigionieri. Altra cosa che rende un po' difficile che questi prigionieri siano arrivati in Cina ma questo lasciamolo tra di noi. La seconda la seconda crisi si ebbe invece nell'1 a.C. quando ancora una volta i parti cercarono di prendere controllo dell'Armenia. Questa volta Augusto che non aveva più Agrippa che era morto, non aveva Tiberio che in seguito alle campagne in Germania si era poi ritirato a Rodi allontanandosi dalla vita politica, lo sarà per alcuni anni, mandò invece un nipote, un figlio della figlia e di Agrippa cioè Gaio Cesare il quale anche questa volta con le sue truppe commise i parti a trattare e questi in cambio della restituzione di alcuni prigionieri c'è dettero nuovamente l'Armenia a Roma. Insomma una situazione in cui Roma si trovava, unico caso in tutto Mediterraneo, al confronto con un regno non diciamo altrettanto grande ma comunque di buona potenza, cosa che spingeva ovviamente Augusto che non aveva le risorse da investire in questa zona a trattare e fu forse la scelta più corretta. C'era però un nemico contro cui Augusto non poteva combattere e quel nemico era il tempo perché il 19 agosto del 14 dopo Cristo Augusto si spegneva. Forse aveva temuto fino all'ultimo che ci potessero essere delle nuove rivolte alla sua morte come alla morte di Cesare e invece non fu così perché Cesare era stato ucciso mentre Augusto si era spento nel suo letto. Si racconta che congedandosi dagli amici avesse chiesto se avesse recitato bene sul palcoscenico della vita e dopo essersi pettinato per un'ultima volta si fosse spento. Alla sua morte gli vennero tributati onori, quegli onori che si tributano a un padre della patria. D'altronde già da tempo Augusto era letteralmente adorato a Roma come una divinità, come un genio protettore della Repubblica o dell'impero insomma chiamatelo dipende come la si poteva vedere all'epoca. Uno dei grossi problemi e cruci per Augusto fu però il chi dovesse succedergli. Come vi ho già raccontato nella prima parte di questa storia infatti Augusto non aveva eredi maschi diretti. Sapete aveva avuto in effetti una sola figlia dalla prima moglie che si chiamava Giulia la quale era andata in sposa a Agrippa. Giulia in realtà si sapeva avere avuto numerose relazioni adulterine tra cui molto probabilmente anche una molto lunga con lo stesso Tiberio. Inizialmente però a succedere ad Augusto sarebbero dovuti essere proprio i figli di Giulia con Agrippa i quali ebbero due figlie femmine Agrippina e Giulia e tre figli maschi. Uno ve l'ho già nominato e quel gaio Cesare che condusse la campagna contro i parti ma morì prima di Augusto. Il secondo era il fratello minore Lucio Cesare anche lui morto prima di Augusto. Il terzo e ultimo si chiamava Agrippa Postumo perché era nato dopo la morte del padre. Ovviamente la madre era già incinta altrimenti sarebbe stato complicato. Questi al momento della morte di Augusto venne però allontanato dalla vita politica e rinchiuso qualcuno dice su decisione della moglie di Augusto cioè di Livia alcuni invece perché fosse pazzo probabilmente c'era una via di mezzo. Perché Livia aveva fatto rinchiudere Agrippa Postumo? Perché una volta che i nipoti reali per così dire di Augusto non erano più disponibili a succedere ad Augusto non potevano che essere i figli di Primoletto di Livia che Augusto aveva adottato e che a tutti gli effetti per il diritto romano erano figli suoi cioè Tiberio e Druso. Questi se vi ricordate erano figli di Tiberio Claudio Nerone primo marito di Livia anche se secondo alcuni Druso che era nato come vi dicevo tre mesi dopo il matrimonio poteva forse essere già direttamente figlio di Augusto. Dei due probabilmente Augusto preferiva Druso che però come vi ho detto era già morto. Ad un certo punto Augusto iniziò quindi ad apprezzare moltissimo il figlio di Druso che si chiamava Germanico che sarà poi un grande generale combatterà anche lui in Germania, ve ne ho parlato durante Clash of General ma che ricevette il nome Germanico dal padre che in seguito proprio alle campagne in Germania venne chiamato Germanico con il permesso di passare questo soprannome ai figli. Ebbene l'idea di Augusto era proprio quella di Germanico. C'era un problema però Germanico era troppo giovane e così ad Augusto non rimase che nominare come suo successore proprio Tiberio che si era dimostrato un ottimo generale, era sicuramente un ottimo politico, era di carattere ombroso, non era molto legato ad Augusto, anzi è possibile che i due fossero parzialmente in scontro e insomma probabilmente non era la migliore delle scelte. Dato che però Augusto ci teneva molto a Germanico chiese, obbligò praticamente Tiberio ad adottare Germanico proprio adottando il figlio del fratello cosa che rese Germanico il figlio più vecchio di Tiberio e quindi suo successore. In barba a Druso che era il figlio di Tiberio non aveva una grossa fantasia nei nomi che era più giovane che pur essendo figlio diretto di Tiberio non era più suo successore. Non è un problema perché poi ne parleremo nella prossima puntata né Germanico né Druso sopravviveranno a Tiberio e a succedere gli sarà poi Caligola cioè il figlio di Germanico ma di questo ne parleremo in futuro. Insomma al termine di questa lunga e complessa situazione Cesare, Augusto, aveva trasformato la Repubblica in un vero e proprio impero. Aveva creato le basi politiche e le basi economiche e le basi militari per dare potere a un uomo solo. Un uomo che sulla carta sarebbe dovuto essere della dinastia Giulia, quella dinastia che si faceva discendere e durante il periodo proprio di Augusto dal punto di vista culturale ci sarà anche la vicenda di Virgilio che scriverà proprio l'Eneide che è un po' la base anche diciamo culturale dietro a questo potere di Augusto che si faceva discendere appunto da Enea e quindi dai fondatori di Alba Longa, la madre di Roma. Ebbene questo potere sarebbe dovuto passare nella dinastia Giulia invece non essendoci successori diretti passerà in una dinastia adottiva che di fatti diventerà la dinastia Giulio-Claudia perché Tiberio era appunto figlio di Claudio Nerone. Insomma una situazione particolare che però manterrà il centro del potere nella famiglia di Augusto ancora per molti anni, ancora per molti imperatori, non tantissimi ma qualche imperatore immagino lo conosciate e che racconteremo nelle prossime puntate di Imperatores. È stata una puntata molto lunga, ho cercato di riassumere i punti più importanti. Avete visto non mi sono dilungato troppo nelle campagne perché mi interessa più che altro farvi capire perché vengono fatte quelle campagne più che il singolo comandante, il singolo generale, la singola battaglia, un po' la situazione nei Balcani. Credo sia molto più interessante invece la discussione politica ed economica oltre che quella della personalità in sé. Questo è lo scopo di questa serie. Come al solito io vi dico due cose. La prima ve l'ho già detta all'inizio. Se volete approfondire questi argomenti tra poco partirà un podcast fatto da Giulio che sarà sicuramente molto interessante. Se avete domande, dubbi, curiosità, volete approfondire particolari argomenti scriveteli in descrizione. Possono essere spunti per quello o per altri pidori di approfondimento vedremo. Per il resto se non volete perdervi le prossime puntate di Imperatores iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Se volete vedere invece quelle introduttive trovate in descrizione la playlist. Io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche. Storie incredibili che nessuno scrittore, nessun registro, ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pidole di storia. Ma soprattutto queste, lo ripeto, sono pidole molto ampie che lasciano molto spazio alla scoperta. Andatelo a scoprire, ci sono un sacco di libri che parlano di quest'epoca e che vi permetteranno di approfondire uno dei periodi più affascinanti della storia dell'Impero. A presto, ciao ciao!